E ok 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 ci siamo, bentornati in questo nuovo video, bentornati su Afterside Crypto, io sono Emiliano e anche oggi torno al nostro consueto Morning with Crypto, l'appuntamento che ci accompagna lunedì a venerdì con le principali news di mercato, con quello che è successo la notte, andremo ad approfondire i tassi di interesse, aumento un po' a sorpresa diciamo così da parte della BCE e andremo a capire se Tesla potrà tornare in maniera aggressiva ad acquistare Bitcoin, insomma lo scopriamo tra pochissimo e capire i modi. motivi a riguardo, ma come sempre prima di partire mio invito è uno, quello di lasciare un bel mi piace, qualora questi contenuti fossero di vostro interesse, di vostro gradimento, mi aiuta tanto col canale, se siete nuovi ricordatevi anche di iscrivervi col click sulla campanellina per rimanere sempre aggiornati, insomma lo sapete quanto sia importante rimanere sul pezzo in questo settore che viaggia velocissimo, se c'è sempre necessità di update on time, time sensitive, lo sapete che è la mia priorità e quindi è l'unico modo, insomma per rimanere in contatto, lasciate un like, date un'occhiata ai link che trovate sotto in descrizione, con le principali promozioni sugli exchange e sui servizi che utilizzo personalmente, insomma e in più vi danno uno sconto dei più importanti del settore, quindi è un win-win, insomma se volete farlo vi ringrazio. Detto ciò non perdiamo altro tempo e partiamo, partiamo proprio da casa nostra, ok, dall'ABC, cioè l'ABC alza i tassi di interesse, ho preso questo articolo adesso alle 24 ore che diciamo che racchiude abbastanza, in maniera abbastanza completa tutto quello che è accaduto, ovvero aumenta allo 0,25% portandosi al 4,50%, livello che in realtà è molto elevato e sembrerebbe appunto le dichiarazioni della Lagarde che siamo arrivati, insomma, al, diciamo al top, l'ho fatto trasparire, chiaro non si può dire esattamente con certezza che quello sia il massimo, ma insomma si è andati già ad avere un po' di scricchioramenti su quest'ulteriore incremento, infatti non è stato preso all'unanimità, ma ci sono stati alcuni componenti che hanno fatto emergere delle discussioni riguardo magari un'attesa per valutare insomma come l'economia avrebbe reagito nel prossimo periodo prima di valutare un'ulteriore risalita dei tassi, ma in realtà poi la maggioranza è stata definita solida per andare ad applicare questo rialzo, inflazione prevista media per il 2023 finale sul 5,3% che è molto elevata, ma con un 2024 dove ci si aspetta un 3,2% per poi andare appunto nel 2025 al 2,1%, quindi tornare idealmente nel 2025 in obiettivo del famoso 2%, il problema, tra virgolette, è quello che per arrivare a questo livello qui bisognerà mantenere molto probabilmente i tassi pressoché invariati per almeno il prossimo anno, poco ma sicuro, e quindi vedremo insomma come la BCE si comporterà, perché sapete che l'aumento del tasso di inflazione con l'aumento del tasso di interesse è una molla, ok banalmente è proprio textbook di finanza, di macroeconomia, è una molla, è una leva, quindi questa leva non si può tirare solamente a rialzo se l'economia non va bene, insomma bisogna cercare l'equilibrio corretto, quindi sicuramente il mio parere è quello, ma vale anche per la Fed questa cosa, hanno un ampio spazio di manovra oggi perché comunque avere i tassi elevati consente loro di poter andare a invertire questa tendenza, se ci fossero problemi, se ci fossero necessità, cosa non possibile nel caso in cui i tassi di interesse siano a zero come lo erano fino a qualche anno fa, insomma e quindi gli dà sicuramente più spazio di manovra nel caso ci fossero dei problemi, però è chiaro che tutto questo potrebbe andare a riaccelerare l'inflazione, però capite che è una questione di priorità, si va sulla parte più importante nel momento storico in cui si va a lavorare, insomma, quindi insomma sono proiezioni, ma ripeto vanno poi confermate nel tempo. Per gli amanti, prima di passare a Tesla, per gli amanti delle sfere di cristallo, vi ho portato questo tweet che ho trovato sulla rete, insomma dove si riporta sempre una Wyckoff accumulation, che è una struttura di mercato degli anni 30, se non vado errato, dove si va a cercare questo pattern, a me non vi dico, si può provare a applicare, anche in passato facevamo qualche piccola analisi utilizzandolo, ma vi ho sempre detto la mia, nel senso che sì, ok, ma a parte che è un pattern che lo potete adattare in maniera abbastanza facile, già cambiando i time frame cambia molto, e soprattutto è un po' troppo lungo secondo me come pattern, nel senso che spesso ci si va un po' a cercare proprio il modo per riportarlo su alcune chart. Funziona molto bene perché è molto, diciamo, pirotecnico come pattern, però secondo insomma quello che è Wyckoff accumulation, in questo caso saremo nella parte 2, nel throwback, dove si va a fare praticamente l'ultimo retest dopo il breakout, e si può ripartire to the moon e basta. Adesso ripeto, boh, non lo so, a me piace più analizzare con voi i mercati day by day, perché le cose cambiano in maniera abbastanza veloce e repentina, insomma, basare un long su questa cosa, insomma, poi può tranquillamente salire, ma non, ecco, non la peserei in maniera aggressiva, perché ripeto, molto bello da vedere, pirotecnico, tutto quello che volete, però poi alla fine, stringi e stringi, serve a poco altro. Andando a vedere invece quello che è il discorso Tesla, si torna un po' in ballo con un discorso che Musk aveva fatto nel momento in cui era andato a togliere, insomma, Bitcoin come metodo di pagamento per le sue auto. Questo perché, secondo lui, Bitcoin era un po' troppo, diciamo, attento all'ambiente, quindi ha detto, tornerò ad accettarli nel momento in cui almeno il 50% dell'energia utilizzata per il mining derivi da energie non fossili e quindi energie rinnovabili. Questo in realtà è avvenuto perché poi è uscito un report, ma è già da tempo in realtà che sono usciti dei report che vanno a testimoniare questo, e quindi ci si aspetta, insomma, che Bitcoin possa magari tornare nelle mani di Tesla. Siamo che comunque Musk è sempre molto attento sulla questione Bitcoin. Guardate solamente X come diventa un Twitter molto, molto legato al discorso crypto, se vogliamo, su tanti aspetti, e quindi potrebbe tornare ad accettarli. È ovvio, ragazzi, che a mio parere qui dentro c'è anche una questione di marketing, nel senso che Tesla non fa le cose a caso. Non credo le faccia esclusivamente per accumulare Bitcoin perché altrimenti può andarli a comprare anche a mercato, ma è un modo anche per promuoversi. Ok? Sono molto bravi in questo. Lo vedete anche da molti programmi. Io penso sia l'unica auto al mondo che ha i referral. Ok? Per farvi capire come cerchiano anche di lavorare sui nuovi clienti attraverso dei metodi innovativi molto basati sull'online più che sui venditori fisici. Hanno molto appeal su tutto questo, ricariche gratis, insomma, fanno degli aspetti molto importanti, quindi mi aspetterei, cioè non mi sorprenderebbe tornasse, insomma, in voga anche questa cosa qua. Sicuramente magari lo andrà a inserire nel momento in cui sarà un po' più di narrativa. Magari anche sull'ETF spot staremo a vederlo, insomma, però non c'è da dormire su questa questione perché secondo me potrebbe tornare con dell'hype. Tra i gainers, andiamo a vedere i gainers, Axie Infinity che fa un più 12%, incredibile, Axie non si vedeva da una vita, Bitcoin Cash torna a pompare un più 10% nel momento in cui Bitcoin un attimino mette la testa avanti, V Network un più 8, Tor un più 8, Cosmos un più 6, V Chain un più 6, Arware un più 6, Compound un più 5, Multiverse un più 5, abbastanza dal coin che vanno a festeggiare tra i losers nuda di particolare, Ape un meno 4, Astar un meno 3, Nexo un meno 1, nient'altro, HT di Wobby 040C, ma niente di particolare da segnalare. Questo perché Bitcoin mette la testa avanti e mette la testa proprio dove abbiamo parlato ieri. Ok? Abbiamo parlato proprio di questo livello qui, del livello della media 200, ai 27.000 dollari, 27.000, 27.100, questa zona qua. E guardate il prezzo dove è andato a finire ieri, sui 26.8, ci siamo avvicinati in maniera molto veloce, siamo stati leggermente frontrannati, o meglio, siamo stati bloccati da questa ala di liquidità, di cui abbiamo già segnalato la presenza. Ve l'avevo detto, non è tanto la 26, per la 26 la possiamo anche recuperare, ma è tutta questa zona qui, che ve la segno qua, così, tutta questa zona qua. È una zona molto importante per il prezzo, dove ci sono molte resistenze, e dove per il momento stiamo approcciandola, insomma, con un'ottima leg up, perché pensate che comunque in tre giorni siamo andati a mettere un 7%, il che è un buon numero per bitcoin, in tre giorni, capite bene? Ora, stiamo andando, siamo andati a correggere leggermente, abbiamo riaperto in green, abbiamo ancora una giornata, e oggi sarebbe importante andare davvero a chiuderci al di sopra, in maniera aggressiva, diciamo così, e ci distanzia un 2%, banalmente, se vogliamo essere un po' più, insomma, forti nella chiusura, un 2,5%, cosa che bitcoin può anche fare, c'era un più 0,37%, al momento in cui sto registrando, insomma, la potenzialità ce l'ha tutta. La dominance in realtà non ci sta dando una gran mano, perché rimane sul 50%, quindi non stanno andando a sottolineare molto, e quindi è un po' un inflow maggiore nella total market cap, dove vediamo appunto entrare maggiori capitali, proprio in questa fase, con questo falso breakdown della total market cap, di tutti i soldi in circolazione nel mercato, molto interessante. Anche per la questione Ethereum, vedete, siamo tornati insomma nella zona dei 1.6 abbondanti, 1.633, ritornando in questo range, dove abbiamo pescato parecchia, parecchia liquidità, sempre confermando questo falso breakdown, in questo momento. Per quello che riguarda l'open interest, non stiamo vedendo segnali particolarmente scarichi, anzi, stiamo comunque su questo rally, continuando ad avere dei pump and dump sull'open interest, ma comunque con un trend di crescita, lo vedete, con massimi crescenti, minimi crescenti, e quindi il mercato sta andando un attimino a caricarsi, ok, rispetto soprattutto alle settimane precedenti, dove vedete, l'open interest era calato drasticamente, e rimaneva sui 198. A questo momento siamo sui 218, e stiamo tornando ad attaccare questi massimi qui, quindi attenzione, perché l'ultima volta che siamo arrivati nella zona di 240, 248, lo vedete, poi abbiamo avuto un movimento molto forte, quindi potrebbe andare a ricaricare le batterie, magari anche nella zona di oggi, nel weekend, o inizio settimana prossima, con anche l'FOMC, che arriverà in maniera abbastanza aggressiva, a darci la sua, quindi attenzione insomma a tutto questo, però sono dati che terremo estremamente monitorati. Quindi i target sono sempre quelli di cui vi ho già parlato prima, ma quindi questa zona qua, a mio parere, è la zona più interessante, da andare a capire se il prezzo non va a recuperare. Un eventuale riapprodo al di sotto, di questa, della 26, potrebbe trovare supporto sulla 12, bar, insomma in questo range, su cui ovviamente abbiamo sostato dal 18 di agosto, quindi praticamente un mese tra alti e bassi, ma quello è il livello. Detto ciò, mi fermo se c'è una necessità, sto andando lunghissimo stamattina, ma serviva a fare questo piccolo recap, a mio parere, se c'è una necessità, arriverò con voi con un altro update, quindi rimanete con me, iscrivetevi, col clic sulla campanellina per rimanere sempre aggiornati, vi ricordo il link che trovate in questa descrizione, un like di supporto, fatemi sapere cosa ne pensate anche voi qui sotto nei commenti, e noi ci vediamo prestissimo con un prossimo video. Ciao a tutti ragazzi!